Il patto di non concorrenza è un accordo tra datore di lavoro e dipendente che viene limitato dal lavorare in aziende concorrenti per un periodo definito dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Questo accordo deve essere scritto e include la definizione dell'oggetto, la durata, la territorialità e il corrispettivo. Secondo l'articolo 2125 del Codice Civile, la durata massima del patto è di 3 anni per i dipendenti e 5 anni per i dirigenti. Il patto di non concorrenza deve essere equo e non eccessivamente limitativo altrimenti potrebbe essere considerato nullo. In caso di violazione, il datore di lavoro può chiedere la risoluzione del patto e il risarcimento danni e attivare una procedura cautelare urgente per far cessare immediatamente l'attività concorrenziale dell'ormai ex dipendente. Segui tutti gli approfondimenti su societaria.it Grazie. Grazie.